È sempre più concreta la possibilità che il numero chiuso per l'ingresso alla facoltà di medicina venga eliminato. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha infatti istituito un gruppo di lavoro per definire il fabbisogno dei medici adeguare le capacità e l'offerta potenziale del sistema universitario. Una decisione maturata durante la pandemia, con la difficoltà di reclutare medici e gli innumerevoli licenziamenti per burnout, considerando anche nei prossimi cinque anni oltre i 50.000 camici bianchi andranno in pensione. Il primo passo è stato quindi istituire con un decreto una commissione di esperti che dovrà fornire proposte al ministero entro la primavera. Il passo successivo è assai probabile che si aboliscano anche i test d'ingresso, uno dei temi del centrodestra, ma in questo caso ci potrebbe essere un freno su una decisione così estrema da parte della conferenza dei rettori delle università italiane.